Grazie a tutti. Non so, dai! Io non riesco più di casa. Non vado per la scuola, dietro. Ma ci diciamo, ma sei le scuole. Dai le scuole. Due giorni dopo il match. Due giorni dopo il match. Due giorni! Guarda fino a trecento, a trecento, non ci facciamo e non ci facciamo. Tre, come c'è l'onore. Dai dai dai! Allora, prima, come on, quanto pota? Non so, dai, non ci facciamo. Che MB? Buongiorno. Noi sono andati! Noi sono andati! Noi sono andati! Si va un'altra volta, eh? Oggi la sento. No, no, si va un'altra volta. No, rispetto ad altre volte. No, no, si sa che già sei bruciato con l'erba. No, no, si sa che già sei bruciato con l'erba. Bravo, Paul!